Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video e soprattutto benvenuti nel video in cui parliamo della camera che ha preso il posto di XH1, la XH2S. Prima di proseguire con quelle che sono le mie opinioni, voglio subito dire che questo video è realizzato in collaborazione con Photoemma.it che mi ha messo a disposizione la Fujifilm XH2S, posto fisico e online dove potrete trovare sempre la soluzione ai vostri problemi. Fujifilm inizio maggio ha presentato questa nuova camera, questo nuovo corpo macchina che va a sostituire finalmente dopo diversi anni la Fujifilm XH1. Fujifilm XH1 è stata la prima di introdurre nel sistema X di Fujifilm il sensore stabilizzato ed era la prima camera definita ibrida da casa Fujifilm. Ebbene, io ho provato diverse camere Fujifilm dalla T3, la T4, ho provato la T30, ho provato la H1 e la H1 è stata l'unico corpo macchina che mi ha veramente regalato delle soddisfazioni non solo in termini di corpo macchina in sé, perché tante volte va fatto anche il ragionamento su come quel corpo macchina lo si impugna, su quanto è trasportabile. Per esempio uno dei grandi problemi della T4 e della T3 è l'impugnatura che è praticamente inesistente, va messo un grip in metallo per renderla un pochino più grossa, per poterla impugnare. In special modo chi ha le mani un po' più cicciotte come le mie. E camere come la XH1 all'epoca e ora la H2S, beh hanno un grip davvero pronunciato e interessante perché la rendono solida in mano e questo è davvero un gran plus. Come detto, la H1 fu una delle camere, una probabilmente delle poche camere che mi ha dato delle enormi soddisfazioni, del quale ho fatto stampe degli scatti che ho fatto. E io non sono fotografo, voi sapete che la mia è una passione quella della fotografia, il mio mondo è un pochino più dedicato al video. E se un corpo macchina mi ha dato quelle belle vibrazioni, quelle belle sensazioni, vuol dire che qualcosa di, non dico ottimo, ma di buono c'era. Ebbene con la XH2S quello che ho notato è che andiamo a riprendere tutto il buono della serie XH e sono andato ad aggiungere tutto il buono delle altre serie. Creando un agglomerato di cose positive. Non riesco a trovare un altro termine con cui andare a spiegare bene il concetto. Per esempio, XH1 non aveva lo schermino ribaltabile, ma aveva lo schermino flippabile. Adesso, sulla XH2, abbiamo anche lo schermino ribaltabile, come la Fujifilm X-T4. Che era un plus, è un plus di quel corpo macchina ed è diventato un plus anche per questo corpo macchina. Quindi ci sono talmente tante cose belle che mi fanno, mi fa storcere il naso quei pochi contro che ho trovato. Ma andiamo con ordine. In primis voglio dirvi una cosa. Ho notato che tutte le visualizzazioni che ho trovato sul canale, praticamente il 2% è iscritto al canale. Se ognuno di voi che vede questo video, clicca su iscriviti, a voi non cambia niente. A me cambia tantissimo perché ricordate che se realizzo questi video è semplicemente perché c'è un rapporto con voi che mi guardate. Fantastico. Partiamo da quello che è il corpo macchina. Ora, non voglio parlare di pesi e di ingombri, ma voglio parlare di quello che è il feeling al quale si va incontro prendendo questo corpo macchina. La prima cosa che mi viene da dire è robustezza. Come al solito, fantastica costruzione di Fujifilm. Io amo lo schermino LCD che troviamo sopra, che ci dà tutte le informazioni di gestione del corpo macchina. Come detto, il grip è davvero fantastico, ha un'ergonomia davvero ottima. È un corpo abbastanza pesante. Non è leggerissimo per essere un corpo mirrorless, ma è vero anche che all'interno c'è tantissima tecnologia. Ma detto ciò, è comunque un corpo importante, mettiamola così. Ce ne sono di più importanti, ma questo è davvero importante. Ora, andiamo a dare uno sguardo rapido a quello che troviamo sul corpo macchina. Sulla parte superiore troviamo il monitor che ci dà tutte le informazioni di scatto. Troviamo la ghiera frontale, una ghiera posteriore. Il tastino per accendere e spegnere la camera in corrispondenza del pulsante di scatto. Abbiamo tre ottimi pulsanti gestione, quale ISO, bilanciato del bianco e un terzo personalizzabile, ma di base io l'ho trovato impostato su riconoscimento facciale per attivare e disattivarlo, cosa molto intelligente. Abbiamo una ghiera delle modalità sul lato opposto del corpo macchina. Sul retro abbiamo i classici pulsanti. Abbiamo il joystick per poterci muovere, i pulsanti direzionali per poterci muovere come il joystick. Abbiamo il pulsante back, Q, quelli per la gestione del fuoco. Dall'altro lato il tastino drive di cancellazione e di play. Ma cosa cambia tantissimo è sicuramente sui lati della camera. Perché da un lato troviamo un fantastico sportellino che porta con sé uno slot SD ed uno slot CFexpress Type B. Questo perché? Beh perché questo corpo macchina porta con sé dei formati molto ma molto ma molto più interessanti per i videomaker piuttosto che per i fotografi. In realtà ci sono delle funzioni talmente ottime per la fotografia che diventa una, come è stata presentata anche da Fujifilm, la camera interessante ibrida foto-video. E cavolo, è proprio una camera molto interessante foto-video. E ora arriviamo piano piano al perché. Dall'altro lato invece, sempre del corpo macchina, troviamo la cosa più bella la svelo alla fine. Sotto in un sistema davvero intelligente di sportellini che si aprono e rimangono bloccati da una molletta, una porta USB di tipo C che vale anche per la ricarica. Finalmente hanno rintrodotto il jack per le cuffie. Prima c'era l'adattatore da USB-C. Il jack per il microfono. E poi, come le camere dedicate al video, abbiamo un HDMI full. Questo perché naturalmente la camera ci permette di tirar fuori dei dati RAW dal flusso video. Dati RAW molto interessanti per tutto il comparto video. Ma ci arriviamo tra poco. Sul retro poi troviamo un ottimo schermo ribaltabile di 270 gradi che si richiude. e all'interno del corpo macchina troviamo due forellini. Questi due forellini sono molto interessanti perché ci danno l'accesso all'installazione di un accessorio. Accessorio che, chi ha seguito un pochino gli articoli usciti i primi giorni, o dei miei colleghi youtuber che hanno avuto modo di provarla prima, sapranno già che qua può essere montato un accessorio che è una ventola che viene venuta separatamente. Ma ve ne parlo alla fine perché ci sono un altro paio di accessori molto interessanti. Naturalmente davanti abbiamo, sulla parte frontale, attorno alla baionetta della lente, troviamo il pulsante per gancio-sgancio lente, il connettore di sync, un pulsante personalizzabile e il pulsante per lo switch del sistema di messo a fuoco, da manuale continuo a singolo. Ok, fatta un pochino l'introduzione a quello che è il corpo macchina, voglio passare un attimo rapidamente al concetto, al discorso batteria. Batteria monta lo stesso modello che troviamo sulle T4. Sono sincero, l'ho provata per una settimana, la camera, e non ho fatto lunghissime sessioni di shooting, ma non ho mai caricato la batteria. Sono sempre uscito, ho fatto le mie 4, 5, 6 sessioni di shooting, video, foto, video un po' più complesso, foto, raffiche, insomma, ci ho giocato e non ho mai caricato la batteria. Sentendo anche i miei colleghi o leggendo articoli, tutti quanti riportano una durata della batteria aumentata a parità di hardware. E questa è una cosa molto interessante. Come detto, non voglio dare la mia piena opinione perché l'ho provata solo una settimana, ma sono piuttosto soddisfatto delle performance. È vero anche che quando avevo la T4, la batteria, con gli stessi utilizzi a memoria, l'avrei dovuta ricaricare ogni due giorni. Invece ora, ancora dopo una settimana, è pienamente carica, quindi ha ancora una tacchetta di batteria. Quindi sono piuttosto soddisfatto proprio da questo valore che è la durata della batteria. Ma ho indugiato un pochino troppo per parlarvi delle feature del corpo macchina. Allora, le leggerò perché non le ricordo tutte quante a memoria. Partiamo dal nuovo sensore. Molti pensavano che fosse lo stesso sensore della T4. In realtà no. È un sensore da 26,16 megapixel. Retroilluminato Stacked. Questa è una nuova... Non è una nuova tecnologia. Perfuge è una nuova tecnologia che ci permette di poter... Un pochino come la tecnologia Sony. Andando a retroilluminare i pixel ci permette di gestire le basse luci in una maniera migliore. Quindi gli alti ISO. In una maniera più intelligente. Questo ci comporta che il rumore c'è. Lo vediamo, naturalmente. Ma dobbiamo salire tanto di ISO. E tra poco vi faccio vedere i test che ho fatto. Sensore nuovo, processore nuovo. Questo perché, essendo un sensore più grande, ci dà la possibilità di gestire molti più dati, dobbiamo processarli in modo più rapido. E quindi viene montato un X-Trans TM CMOS 5HS. Nomi sempre più complicati, grazie Fuji, ma sono sempre molto interessanti. Grazie a questo processore abbiamo la possibilità di poter gestire in camera anche codec e compressioni in lato video, come il ProRes. Ebbene sì, questa camera, come altre sul mercato, mi viene in mente la GH6, abbiamo la possibilità di registrare direttamente in camera, in formato ProRes. Ed è questa, secondo me, una delle chiavi di svolta di questo corpo macchina, che si avvicina completamente ai videomaker, dando comunque una bella spallata ai fotografi, perché, vado subito al punto successivo, abbiamo una raffica di scatto fino a 40 fotogrammi per secondo. Una cosa impressionante, se si parla di fotografia sportiva o fotografia naturalistica, dove abbiamo la necessità di fare un bel bar. Diciamo che è impressionante, ma mettiamola in questo modo, adatta davvero a un mercato specifico della fotografia che di questi tipi di funzioni ne ha pienamente bisogno. E quindi, noi siamo contenti che ci siano. Ma, proprio parlando di fotografia, nonché anche di video, perché va bene anche, è una funzione naturalmente che va bene anche per la parte video, abbiamo migliorato l'autofocus. Ora, su Fujifilm T4, T3, l'autofocus non era assolutamente male, ma diciamo che non ci si poteva affidare al 100%. Se con Sony mi affido al 100%, con Canon mi affido al 98%, con Panasonic, che sta registrando, mi affido al 50%, diciamo che con Fuji mi affidavo al 75%. Questo perché, molte volte, il tracciamento del viso, purtroppo veniva perso, e quindi andavo un attimo in ricerca, in hunting del fuoco, ma lo ribeccava molto rapidamente. Special modo, quando avevamo poca luminosità, in quei casi, era un pochino più duro ritrovare il fuoco. Ma, è stato migliorato l'autofocus, e soprattutto, abbiamo la possibilità di selezionare i soggetti. Quindi possiamo andare a selezionare animali, io ho fatto le mie dovute prove, con il mio gattino, e se la ricerca è davvero come per una persona, dove andiamo a ricercare l'occhio, anche nel caso degli animali, la ricerca era molto ma molto rapida ed intuitiva. Anche qui, l'autofocus è stato implementato davvero tanto, molto ma molto rapido, ed è diventato un autofocus di cui potersi fidare, e questo grazie al motore di intelligenza artificiale che c'è dietro, che come detto, riesce a riconoscere animali, uccelli, treni, aerei, e automobili. E, se non sbaglio, anche le motociclette, sì, confermo anche le motociclette. Ora, arriviamo alla parte video, la parte che a me più interessa. In realtà ho preso uno schema da DP Review, che ha schematizzato tutti i formati e le risoluzioni, e ve ne voglio andare un attimo a parlare. Abbiamo la possibilità di registrare fino a 6,2K in camera, ora, fino a 30fps. Ora, questo è il metodo di registrazione, però, ha un piccolo gap, che può essere registrato solo in aspect ratio 3 a 2, quindi il pieno sensore. Il grande problema è che se poi dobbiamo andare a riportare quel girato in un formato standard, arriviamo a perdere un buon 30% del girato, quindi arriveremo a un 5K in soldoni, andando a parlare in soldoni. È una risoluzione che c'è da far entrare negli standard, ma è un plus. Mentre andiamo alle cose un pochino più succose, possiamo arrivare fino al 4K 120 fotogrammi al secondo, quindi un ottimo slow motion, fino a scendere naturalmente il full HD, 60 fotogrammi, 4K 60 fotogrammi, insomma abbiamo le varie dimensioni, le varie tipologie di codec, partendo dai Uli ai long hop, dai 50 megabits, 100 megabits, 200 e così via, fino ad arrivare a soglie molto elevate, perché in camera, grazie all'ausilio di una CFexpress Type B, abbiamo la possibilità di poter registrare molti più dati, e quindi di registrare fino a 2000 megabits per secondo, in progress, in tutti i formati elencati. Questa è una delle funzioni molto interessanti, che rende questo corpo macchina praticamente dedicato ai videomaker, ma se andiamo a prendere le funzioni dedicate alla fotografia, diventa la combo perfetta per un corpo APS-C, che ha i suoi pro e i suoi contro, perché come sappiamo bene, tutti i sensori hanno i loro pro e i loro contro, ecco che l'APS-C comincia a diventare di nuovo molto competitiva, anche rispetto al full frame. Se prima abbiamo parlato dell'autofocus, ora quello che voglio mostrarvi, è un piccolo test che ho fatto sulla gestione di ISO. Bene, ho provato naturalmente, ho scalato ISO fino ad andare in cima ed oltre, e sicuramente fino ai 6400 ISO, abbiamo una pulizia dell'immagine enorme. Sentite il rumore del mouse, perché sto guardando con voi le immagini. Naturalmente dal test di ripresa dallo schermo, si vede più rumore rispetto al file di uscita originale. Ma in realtà, io a 12800 ISO, vedo degli ISO utilizzabilissimi, vedo una grana utilizzabilissima, che non andrei neanche a pulire con un denoiser. Probabilmente non andrei a pulire invece quella dei 25600 ISO, che è il nostro limite, perché è un pochino più vistosa, ma comunque, volendo, può essere utilizzabile. Quindi, grazie a un nuovo sensore, staked, abbiamo la possibilità di utilizzare questa camera, anche con basse luci, quindi gestendo bene gli alti ISO. Andiamo un attimo a quelli che sono gli accessori, che sono stati presentati col corpo macchina. Me ne sono segnati tre, appuntati tre nello specifico, in realtà ve ne voglio parlare di due. Il primo è quello dedicato al raffreddamento attivo del corpo macchina. Ebbene sì, perché anche questa macchina può avere un problema di surriscaldamento, data i formati di registrazione piuttosto complessi, che richiedono un enorme lavoro da parte del processore, c'è la possibilità che la macchina vada in over-heating. Per far questo, in realtà non per registrazioni di clip brevi, ma quando parliamo di registrazioni di clip molto, ma molto lunghe, per ovviare a questo problema, Fujifilm ha realizzato un accessorio, che è una sorta di ventola, è una ventola che va ennestata sul retro del corpo macchina, lasciando aperto lo sportellino del monitor, e questa ventola raffredderà attivamente il corpo macchina, durante le nostre sessioni di registrazione più lunghe. Molto intelligente il fatto di poterla montare, smontare ad hoc, perché diciamo che nell'80% dei casi, questi corpi macchina vengono utilizzati, per fare delle riprese brevi. Nell'altro 20% dei casi, abbiamo la possibilità di poter abbassare la codifica, quindi andare oltre certi limiti di tempo, molto serenamente, senza grosse difficoltà, proprio grazie alla codifica più bassa, quindi all'utilizzo del processore, in una maniera meno intensiva. Molto interessante quindi l'utilizzo della ventola per il raffreddamento attivo. Ma perché è stata creata questa ventola? Beh, per una visione a lungo termine di casa Fuji. Questo, dalle varie presentazioni che sono state fatte, è stato presentato un altro accessorio, che è un battery grip molto speciale, che ci permette di, praticamente oltre ad estendere la torta della batteria, abbiamo una connessione Ethernet. Possiamo andare a gestire remotamente la camera e possiamo gestire più camere in contemporanea. Ed è qui che arriva la visione di Fuji, quindi il poter gestire più corpo in macchina, tutti quanti contemporaneamente, seduti da una sola postazione, tramite cavo. Ed è un pochino quello che ha fatto Panasonic, con la sua serie di BGH1, BGHS1, quindi quelle serie lì. Ed è una scelta molto interessante, perché porta questi corpi macchina ad avere una vita diversa, una vita completamente nuova, rispetto al solo utilizzo point and shoot, a quale siamo abituati. Io adesso vorrei parlarvi di quelli che sono i pro e quelli che sono i contro. Beh, di pro in realtà non ho nulla di specifico da raccontare, se non quelle che sono le caratteristiche che io ritengo davvero molto interessanti per questo colpo macchina, che la rendono molto appetibile. Vi sono sincero, ci ho fatto i pensieri non ch'io. Mentre per il contro, un piccolo contro c'è, che è il costo. Io ho trovato il costo un pochino troppo cresciuto. È vero che Fuji ci ha abituato ad una serie di scontistiche molto molto forti, molto anche interessanti. Ricordo il periodo in cui la XH1 veniva venduta, solo corpo, a meno di 1000 euro. Era fine vita del prodotto, ma alla fine questa cosa è successa un paio di anni fa. Prima del pre-pandemia, quindi più di tre anni fa. Quindi non era proprio a fine vita del prodotto. Quindi mi fa storcere il naso un pochino i prezzi elevati. Non tanto del corpo macchina, perché 2800 euro di listino non sono male, pensando a quelle che possono essere le scontistiche di casa Fuji. Ma quello che mi fa storcere il naso sono un pochino i costi degli accessori extra. Non parlo neanche tanto della ventola. Quanto dei 1200 euro, se non vado errato, che devono essere sborsati per il battery grip, per la gestione remota di più camere. Perché se pensiamo di fare un'operazione del genere, immaginiamo di avere almeno due o tre camere e quindi oltre al costo corpo, costo lente, dobbiamo aggiungere praticamente il 30% del costo della camera solo per l'acquisto di un accessorio per utilizzarla insieme ad altre. Questo probabilmente è l'unico contro che trovo in questo corpo macchina nella gestione del progetto X-H2S. In realtà aggiungo un'ultima notizia che a fine anno dovrebbe arrivare la X-H2. La S in questo caso non sta per sensitive come per la serie di Sony, ma sta per speed, quindi rapidità. Mentre la X-H2 che arriverà più avanti, di cui non abbiamo grandissime notizie, dovrebbe avere una risoluzione maggiore con un sensore più grande, più denso, eccola, non più grande perché comunque dovrebbe essere sempre una PSG. Detto ciò, veniamo alle classiche due domande che mi faccio sempre. Vale l'upgrade e a chi la consiglio? Ora, risponderò contemporaneamente alle due domande. Vale l'upgrade? Sì, se si viene da X-H1, dopo cinque anni era il momento di fare un saltino di qualità con queste funzioni poi diventa ancora molto più interessante. E a chi la consiglio? Beh, ha i possessori di X-H1 e di T4 o di T3 che fanno molto più video. In quel caso l'upgrade probabilmente, non dico che è d'obbligo, ma ci sta davvero tanto. Chi ha H1 sicuramente, chi ha T3 sì, chi ha T4 diciamo che sì, con la T4 si lavora tranquillamente e serenamente. Ma un corpo più solido che vi dà sicurezza, beh, questo con un grip migliorato questa non è una cosa da sottovalutare. Siamo giunti alla fine di questo video e delle mie riflessioni dedicate alla X-H2S, un corpo macchina davvero costruito, progettato, ingegnerizzato con intelligenza pensando al mercato e a dei settori di mercato ben specifici aprendosi sia al mondo video che al mondo foto in una maniera molto interessante. Vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione il link per poter andare a vedere il prezzo attuale nel momento in cui state avvenendo questo video su fotoema.it e vi ricordo naturalmente che se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti e se volete supportare il mio progetto potete iscrivervi al canale così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno. Insomma, io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.